La vicenda Tamoile è ancora lontana dalla conclusione, considerato non solo l'enorme impatto ambientale, ma anche la volontà da parte dei radicali, dei 5 Stelle e altri ambientalisti di compiere una sorta di bonifica politica per evitare che si formino di nuovo le condizioni per il ripetersi di casi simili. Le motivazioni della sentenza d'appello con la condanna di uno dei manager Enrico Gilberti per disastro ambientale colposo segnalano le gravi e reiterate omissioni da parte della raffineria libica. Quando sarà concluso anche il processo in Cassazione per il prevedibile ricorso di Gilberti, potranno iniziare le cause civili di risarcimento danni e le canottiere bisolati si è già mobilitata. Il presidente Maurilio Segalini farà pervenire ai 4.000 soci un questionario assieme al notiziario per conoscere le intenzioni di tutti loro. All'ultima assemblea erano presenti in 250, con deleghe di altri 250, però la canottiera intende consultarli tutti. Ci vorrà tempo, probabilmente fino a marzo. La Bissolati, come anche il dopolavoro ferroviario e la canottieri Flora, ha subito gravi danni ambientali da parte della Tamoil, le cui tubature hanno diffuso petrolio nelle aree interne ed esterne. La raffineria sapeva di causare gravi danni, eppure ha mentito alle autorità, fingendo una situazione meno pesante, facendo così partire le bonifiche con ingiustificato ritardo, come stabilito dai giudici. La bonifica è già in corso alla Bissolati, di cui è socio Sergio Ravelli, che ha scritto più di un libro su un caso di rilievo nazionale, tale da influire sul cambiamento delle norme. Per valutare i danni patiti, la canottieri si avvarrà non solo di un avvocato, ma anche di un geologo e un esperto in materie ambientali, formando un pool. La questione occupazione è risolta, il Comune si è schierato con i radicali, anche il Ministro dell'Ambiente, rimasto fuori dal processo penale, potrà schierarsi. Dovrebbe essere convocato inoltre l'osservatorio Tamoil entro l'anno per fare il punto. Oltre alle bonifiche, sarà necessario procedere alla dismissione dell'imponente raffineria. Ancora più in là è prevista una nuova attività nello stesso sito, forse un polo di riciclo della plastica, per il quale però manca il progetto.